2, 1, via. Bentornato, ti aspettavi di rimanere in bianco rosso? Sì, mi aspettavo perché avevo già parlato con il direttore in precedenza anche quest'estate e mi aveva già detto che comunque voleva continuare questo percorso che abbiamo iniziato lo scorso anno e proseguire con la mia crescita. Che lavoro stai facendo con il preparatore Zambardi? Stiamo facendo i primi 2-3 giorni, abbiamo fatto lavoro fisico e molto dal punto di vista atletico diciamo e adesso magari iniziamo ad andare anche per terra così a fare delle parate ma stiamo lavorando per rimetterci in sesto dal punto di vista atletico. In quale situazioni pensi di dovremmo migliorare? Penso un po' in tutto, sono molto giovane quindi ho sempre da imparare anche dai miei compagni, dal mister soprattutto e quindi un po' dappertutto dai. Ecco appunto compagni, che gruppo sta nascendo a Malè? Un bel gruppo, siamo un bel gruppo giovane che ha voglia di fare, ci troviamo bene anche con i nuovi ragazzi che sono appena arrivati e spero che questo gruppo faccia bene quest'anno. Grazie. Grazie.